Un punto che va stretto al Trestina che esce da Budrio con 1-0-0 il secondo di fila che mantiene sì Bianconeri al sest'ultimo posto ma con l'aggancio del tutto cuoio restano sempre due le lunghezze di vantaggio sul Mezzolara, quart'ultimo in classifica. In avvio Tommasini rischia subito il giallo per simulazione quando cade a terra così a contatto con Maggioli. Il Trestina si rende subito pericoloso con Mancinelli imbeccato da Villanova ma la sua conclusione termina sul fondo quando poi il Mezzolara si fa vedere con Bolelli al diciannovesimo c'è Garbinesi a volare e alzare sopra la traversa. Stesso intervento che deve compiere tre minuti dopo Malagoli sul destro da fuori di Villanova. Il tempo si chiude con i padroni di casa in avanti ma c'è Nonni a blindare sul traversone di Raspadori servito da Menarini. La ripresa inizia con il Trestina subito pericoloso sempre sull'asse Villanova-Enrico. Al 55esimo il centrocampista conclude sull'esterno della rete. Al 57esimo Enrico ci riprova ancora ma senza trovare lo specchio. Il Mezzolara si vede al 63esimo con la conclusione murata di Melli. Poi l'undici di Fiorucci sfiora il vantaggio ma l'incornata seppur potente termina a fil di palo. Il Trestina però si complica la vita da solo al 75esimo quando Marconi dopo un contatto con il nuovo entrato Sala si fa espellere per proteste dall'arbitro Toce. Con l'uomo in più i bolognesi spingono e prima c'è Pezzati a murare la conclusione di Menarini. Poi è Cosimetti entrato al posto di Garbinesi a dire no a Sala. Il Trestina però non ci sta ma il sinistro all'82esimo di Ridolfi sull'imbucata di Villanova viene controllato da Malagoli. Cosimetti si esalta all'85esimo quando vola così sul destro all'angolino del solito Tommasini. Il tentativo velletario di Mutti non è che il via all'azione che porta alla ripartenza del Trestina con il nuovo entrato Bellante che fa tutto bene cercando anche la stoccata da Futsal. Trovando però sulla sua strada un Malagoli formato gigante che respinge anche la seconda conclusione del funambolo siciliano. È l'occasionissima che precede il triplice fischio di Toce che muove la classifica di Mezzolara e Trestina.